Radio Ortona, notizie. Radio Giro Masci. Palovone maschile, multata l'impavida per il comportamento dei tifosi nella partita con Sonello. I tifosi dalla loro squadra del cuore. Sulla questione Giro Masci ha intervistato Marco Maranca. Nell'ultimo tre incontri l'impavida ha ottenuto altrettante vittorie, Lupi, Santa Croce, Chieti, eccetera. Nonostante tutto però continua la guerra fredda tra i tifosi e la società. Al riconosciuto capo dei tifosi dell'impavida, Marco Maranca, andiamo a chiedere, ecco come mai si è giunti a questo? Diciamo che l'impavida è partita all'inizio per fare una stagione tranquilla, ecco. E in parte lo sta facendo, però forse il modo con il quale sta ottenendo questi risultati è quello che forse dà un po' fastidio. Grazie.